Professor Bennato, Professor Melelli, Professor Guerrino Bovalino, l'offerta di questa settimana ne abbiamo parlato con i nostri amici critici. Professor Bovalino, Professor Bennato e poi Professor Melelli. Davide. Di solito mi faccio guidare nella scelta dei film della settimana fra un equilibrio fra le mie passioni e i miei interessi intellettuali. Però devo dire la verità, stavolta sono gli interessi intellettuali quelli a dominare nella scelta, soprattutto nell'orientamento nei confronti dei film, perché ci sono tutte pellicole che secondo me hanno delle tematiche sociologiche piuttosto interessanti. La prima sicuramente è tutti a parte mio marito, perché sono d'accordo col collega, la questione delle app, dei nuovi rapporti interpersonali giocati anche con le piattaforme digitali è qualcosa che riguarda sia la condizione contemporanea ma soprattutto gli studi che faccio, nel senso delle relazioni sociali che avvengono nelle piattaforme online. Quindi mi piace molto questa idea di come le persone riscrivono la propria identità utilizzando anche gli strumenti digitali che possono essere un accesso a porzioni della propria identità che nella vita di tutti i giorni magari non vengono a essere sistematicamente frequentate, ho detto in maniera piuttosto arzigogolata. Poi c'è Fogli al vento di Caorismachi, perché a me piace molto quell'atmosfera appunto rarefatta di questa cinematografia, ma soprattutto dato che è ambientato in un contesto anche di crisi economica, di lavori precari e così via dicendo, mi sembra anche un buon modo per accedere ad una sociologia del contemporaneo che soprattutto sulle identità economiche di tipo molto flessibili riflette in maniera sempre più sistematica. E poi c'è un'altra cosa che mi ha colpito che è One Life, perché io mi sembra di ricordare che qualche tempo fa su internet circolava un video in cui si vedeva una persona evidentemente anziana che veniva circondata da un sacco di persone più giovani e si scoprivano essere le persone che aveva lui salvato. E quindi ho scoperto che questo video in realtà era, che era un video tra l'altro fatto dalla BBC, fatto circolare dalla BBC, in realtà aveva dietro questa storia che ho scoperto essere questa di One Life. Quindi sicuramente questa è una cosa che mi ha rimesso insieme, il mio interesse nei confronti delle tecnologie, quindi il mio interesse delle culture digitali, ma soprattutto ciò che avviene dietro a un meme, detto in maniera banale. Devo dire la verità, sono molto deluso invece per quanto riguarda Aquaman, io sono sempre stato un appassionato dei fumetti e dei fumetti al cinema, ma secondo me a questo giro stiamo assidendo veramente a un calo sia dell'immaginario che della potenza narrativa di questi strumenti. Professor Melelli, sentiamo la sua opinione. Professor Bennato. Io tifo per adagio, devo dire la verità, perché a me Solima piace da morire, nel senso ogni volta che fa film d'azione di genere, soprattutto in quelle ambientazioni italiane, Solima è veramente eccezionale. Però non vorrei sbagliarmi, ma al di là del fatto che siamo con un'atmosfera sicuramente natalizia, comunque quindi si sente l'aria del marketing natalizio, soprattutto delle tematiche natalizie, mi sembra di vedere che c'è una bella dominante di immaginario italiano, di una bella, cioè l'immaginario italiano che è legato al nostro paese. E meno male, certo, ma soprattutto con delle sfaccettature non banali, è questo che volevo sottolineare, cioè c'è molta Italia ma non necessariamente stereotipica. Allora tra poco ci siamo, è il Natale, lo diceva anche Bennato da Catania. Ma è Bennato? Godiamoci il Natale in famiglia con tutti i sentimenti e poi proviamo a riportarli mentre guardiamo qualche film al cinema in sala. Bruschetta. Grazie a tutti.